La mia esperienza è un film di horror Michele, so che questo è il tuo primo film di horror, non è? Cosa è stata l'esperienza per te? Credo di aver scoperto, attraverso questa esperienza, un grande talento e questo è già una cosa molto importante per me. Questo è il mio primo film di horror ma ho una grande esperienza da tutti i film che ho fatto come attore e direttore e credo che con questo film ho scoperto un nuovo talento perché credo che Federico sia un nuovo talento. Cosa ti è piaciuto molto di più lavorando con Federico? La sua immediata idea di che cos'è un'azione di un film horror, cioè l'esecuzione di un'idea che è istantanea, è instant movie, non è molto molto riflettuta, non so come dire. Lui è come un pittore che fa la tela al momento e questo è una cosa molto rara. Federico è un personaggio speciale, non segue il modo tradizionale, è veramente un istinto, segue il istinto. È come un pittor, quando inizia a dipendere il suo film, è un istinto, si pensa e si fa immediatamente, senza pensare troppo, senza seguire il modo tradizionale. è quello che si può fare, è un bel problema che sia un'idea di farina. È un'idea di farina che si può fare, non so se non fare più, non c'è più, però non c'è più. È un'idea di farina di farina. Grazie a tutti